magic pole ciao Giosuè complimenti per il tuo lavoro domanda provi ad organizzare un secondo appuntamento quando lei ti scrive dopo che il primo è finito con un bacio lei ti dice aggiorniamoci lunedì ok non vedo una domanda però cerco di capire che cosa vuoi intenderci a che cosa vuoi fare allora dipende innanzitutto che cosa hai da fare lunedì perché magari tu lunedì sei impegnato io queste cose le do per scontate ragazzi perché se una donna ti dice aggiorniamoci lunedì lei dovrebbe sapere sempre per apprezzare il vostro tempo e quindi valorizzare e quindi creare attrazione ok non deve essere scontato che voi ci siate lunedì questo aggiorniamoci lunedì tu dici ok lunedì ho l'appuntamento no dipende che cosa hai da fare lunedì cerchiamo sempre rallentate ragazzi rallentate non abbiate fretta in ogni caso se ci tieni a questa donna a questa ragazza sì come ho detto prima trattieniti cerca di cioè non dovresti mai permettere a una donna di sedurti così velocemente ok perché dici provi a organizzare un secondo appuntamento quando lei ti scrive giusto è quello che hai fatto cioè provi a organizzare un appuntamento quando lei è venuta verso di te coerente con l'argomento di oggi e soprattutto ti dice il premio è finito con un bacio ok va bene lei ti dice aggiorniamoci lunedì punto numero uno come ho detto prima dipende da che cosa hai da fare lunedì io spero tante cose perché se domani devi cazzo non so lavorare con me lunedì ti assicuro che hai molte cose da fare ok ripeto non dovresti mai avere fretta non dovresti mai permettere a una donna di sedurti così velocemente anche perché è comprovato che le donne possono dire sei romantiche come ho detto prima ma la maggior parte delle volte una donna perde attrazione la prima attrazione la perde e dà colpa all'uomo perché dà colpa all'uomo cioè la perdita di attrazione è attribuita all'uomo perché una donna dentro di sé si incazza proprio perché voi visto che all'inizio eravate la persona attraente dopo vi siete rivelati nel passo successivo molto facili cioè quella cosa che ha tratto lei a voi dovrebbe essere mantenuta e se voi da lì vi svegliate ah cazzo questa qua mi caga le facilito la strada e non riuscite a mantenere quella cosa che è stata attraente vi rendete conto che è proprio il principio di causa-effetto causa-effetto se l'effetto è stato creato dalla causa di prima perché cambiate la causa se volete lo stesso effetto no allora all'inizio sono stato interessante involontariamente perché perché non lo siete ok è stato veramente un caso lei si è creata si è si è trovata attratta perfetto si è trovata attratta poi io cambio cambio mi dimostro già accondiscendente il lunedì sono già disponibile per lei insomma non la faccio sudare e questa cosa far sudare una donna io ripeto purtroppo quando una donna le andate a chiedere ma l'uomo ti dovrebbe far sudare tutte le donne diranno di no ma è ovvio che diranno di no perché nessuna donna vorrebbe a livello a livello razionale cioè se ne dite preferisci far fatica o preferisci far meno fatica è ovvio che il cervello proprio umano il cervello umano non vuole far fatica quindi se la mettete davanti a una scelta di fatica non fatica è ovvio che dirà no no non voglio far fatica vorrei che mi portassi i fiori mi corteggiassi però non c'è la trazione capite che la trazione è controintuitiva proprio da queste cose quindi per finire con magic pole ripeto questa cosa questo voglio fare un inciso perché sicuramente non ci sono dei ragazzi che non capiscono purtroppo vabbè non dovresti mai permettere a una donna di sedurti così velocemente io ho detto questa frase vuol dire tirarsela no no perché voi ripeto fate sempre il paragone con le cose che dico io con quei corsi seduzione e tutto il resto purtroppo se siete arrivati ai miei video vi siete ciucciati tutti i video di seduzione lo so quindi viene fraintesa questa cosa cioè non dovresti mai permettere a una donna di sedurti di averti di farti innamorare così velocemente non vuol dire tirarsela ok ma vuol dire capire come funziona l'attrazione capire e favorirla ok quindi vuol dire tirarsela no vuol dire manipolare fare i giochini anzi vuol dire manipolare sì ma voi stessi ok trattenere manipolare noi stessi per resistere a questa forza che si chiama forza sessuale che ragazzi se adesso apriamo un discorso un secondo per farvi capire sempre come potrebbe ragionare una donna ok quando una donna si allontana e voi siete lì cazzo però potrebbe riscrivermi cazzo però e non le manco non so voi in quel momento è ovvio che siete mossi da questa forza sessuale ma non è la stessa che hanno le donne se fate un esperimento ok tutti voi adesso parliamo veramente veramente in maniera molto limpida chiara ok dopo la masturbazione dopo esservi nati in bagno in camera non so fate le vostre cose subito dopo provate a immaginare in che stato mentale siete voi siete in lucidità più completa e più totale in quel momento subito dopo eh e siete appagati ok se provate a fare questo esperimento magari non mentre guardate il mio video ok subito dopo aver raggiunto l'orgasmo subito dopo voi siete lucidi completamente lucidi avete bisogno di mandare quel messaggio alla donna che vi piace no perché perché la la spinta sessuale ha raggiunto il culmine ha raggiunto il suo il suo fine quel momento di lucidità voi dovreste paragonarlo allo stato mentale di una donna quando è lontana da voi quando pensa le sue cose una donna non è spinta nel mondo e fa le cose dalla stessa forza sessuale di un uomo se voi ci pensate quando un uomo deve raggiungere i propri obiettivi e anche lì vi masturbate avete voglia di raggiungerli no perché vi siete già premiati infatti qua si potrebbero aprire mille discorsi di come riuscire a ne avevo già parlato a trasmutare questa forza sessuale che non è soltanto il bisogno di scopare ma è proprio questa forza questa energia che ci permette di fare le cose se voi la concludete infatti nei nelle culture altre culture non la nostra quella lì è proprio la forza vitale ok se voi usate questa forza vitale la sfruttate per ottenere le vostre le vostre risorse e avete un senso dello scopo e sfruttate questa forza quindi non la mettete nel il vostro focus non è nell'ottenere la donna ma nell'ottenere risorse è ovvio che una donna vorrà sempre stare con un uomo del genere un uomo che riesce a gestire questa forza riesce a domare i suoi leoni interni troppo complicati questi discorsi lo so va bene ma io penso che molti di voi li abbiano capiti quindi ripeto si tratta di manipolare magic pole no o almeno non manipolare lei ma manipolare noi stessi manipolare in questi casi cosa vuol dire accorgersi e correggere in corsa dei comportamenti istintivi maschili che potrebbero far spegnere la sua attrazione la sua attrazione